nuove opere pesaro si interroga sul futuro di questura e ospedale l'assessore castelli positivo al covid giunta in quarantena il vaccino anti influenzale si fa all'oratorio in tanti in fila loretto pesaro ospiterà i mondiali di wargames 2022 buona serata e benvenuti al nostro telegiornale telegiornale di oggi martedì 16 novembre che apriamo occupandoci di due nuove opere al centro del dibattito politico pesarese ovvero la ricerca di nuovi spazi per la questura e i criteri con cui sarà realizzato il prossimo ospedale di muraglia due temi che sono stati al centro dell'ultimo consiglio comunale vediamo le possibili destinazioni della nuova questura di pesaro incassano altri due no lo ha riferito il sindaco di pesaro matteo ricci durante il consiglio comunale di lunedì sera dopo il rifiuto dell'agenzia del demanio a ricollocare la questura negli spazi dell'ex intendenza di finanza arrivano inograzie della stessa questura e prefettura e riguardano i terreni in zona torraccia e celletta proposti dal comune di pesaro come luoghi edificabili alternativi che vengono bocciati preventivamente perché reputati troppo periferici insomma siamo al punto di partenza o quasi l'unica differenza è che l'ex intendenza di finanza verrà riqualificata comunque ma per ricavare uffici pubblici e non per la questura la costante è invece che la questura rischia di rimanere dov'è ancora per molto tempo a meno che non si tenti una terza via quella di riproporla negli spazi della caserma militare un'idea gradita al prefetto ricciardi un'idea che corrispondeva anche alla proposta iniziale risalente ormai dieci anni fa ma che all'epoca fu bocciata dal ministero della difesa ora si spera di non incassare l'ennesimo no in tal senso dalla nuova questura al nuovo ospedale cambia l'opera pubblica cambia il fatto che nell'ospedale di muraglia si è individuato il prossimo contenitore per il futuro della sanità ma manca ancora un'analisi chiara sui contenuti motivo per cui il sindaco ha sollecitato il consiglio comunale a invitare il presidente della regione acquaroli e l'assessore alla sanità saltamartini ad un'assise dedicata mi preoccupano molto le indiscrezioni che escono su un indebolimento se non una cancellazione dell'azienda ospedaliera senza azienda ospedaliera l'ospedale nuovo è monco e tutta la strategia rischia di indebolirsi perché senza azienda ospedaliera rischiamo di non avere i professionisti competenti di grande avanguardia in grado appunto di attrarre su pesaro popolazione che si deve curare sia in termini di diagnosi che in termini di cura e in generale vogliamo capire come sta dentro l'ospedale di pesaro rispettano una riorganizzazione provinciale regionale per questo se siete d'accordo io chiederei come consiglio comunale al presidente acquaroli a organizzare un consiglio comunale tematico sulla sanità che ci consenta di ragionare sul contenuto e non soltanto sul contenitore preoccupazioni non solo a pesaro ma anche nei comuni limitrofi è il caso di monbaroccio dove il sindaco emanuele petrucci ha scritto una lettera al presidente della provincia giuseppe paolini in cui esprime sconcerto sulle modalità procedurali che si stanno seguendo in questa operazione di edilizia ospedaliera a cominciare da una domanda sarà un ospedale a valenza soltanto comunale o almeno a valenza provinciale se il caso è quest'ultimo petrucci sollecita come pertinente un coinvolgimento della conferenza dei sindaci nel dibattito sulla suddetta modalità procedurale questi che avete visto sono appunto i temi caldi che si sono trattati nel consiglio comunale oggi non si è invece tenuto il consiglio regionale a causa della positività da covid-19 dell'assessore regionale guido castelli che ha mandato l'intera giunta in quarantena è stato annullato il consiglio regionale che era previsto questa mattina e sono destinati a saltare diversi appuntamenti istituzionali dei prossimi giorni che saranno ricalibrati da remoto dal pomeriggio di ieri l'assessore regionale al bilancio guido castelli è infatti risultato positivo al covid-19 e la notizia ha portato all'auto isolamento volontario l'intera giunta dal presidente acquaroli agli assessori carloni baldelli saltamartini aguzzi e giorgia latini l'intera squadra di governo regionale è in quarantena la notizia era arrivata nel primo pomeriggio di ieri col tampone effettuato in seguito a un raffreddore e la positività emersa nonostante castelli sia vaccinato la stessa giunta in queste ore ha ricordato come l'incidente di percorso rappresenti un monito alla cittadinanza a insistere sulle terze dosi di vaccino un tampone positivo non fa però solo saltare il consiglio regionale ma anche diversi impegni istituzionali compresa la visita nelle marche del presidente del senato maria elisabetta alberti casellati prevista per giovedì presidente del senato che era anche attesa urbino venerdì a commemorare il ventennale della scomparsa di carlovo altro evento annullato la giunta però al lavoro da remoto anche attraverso diversi post su facebook fra questi quello del governatore acquaroli che è intervenuto oggi per ribadire come siano ancora remoti i rischi di un passaggio in zona gialla delle marche nonostante continui a salire l'incidenza da contagio e nelle marche continua a salire l'incidenza da contagio dopo il superamento delle 100 unità di ieri oggi il dato emerge a 106 casi di contagio ogni 100.000 abitanti i contagi registrati oggi sono 226 ma si abbassa la percentuale di tamponi positivi per una consistente quantità di test effettuati ben 5.856 calano di due unità i ricoveri rispetto a ieri oggi sono 91 24 dei quali in terapia intensiva anche oggi un decesso si tratta di una donna di 85 anni di ancona sono 95 le classi scolastiche di ogni ordine e grado attualmente in quarantena nella nostra regione marche un dato più che raddoppiato rispetto alle 40 classi che si trovavano in quarantena appena una settimana fa attualmente in provincia di pesaro urbino le classi in quarantena sono 11 una settimana fa erano 8 numeri che sono stati comunicati oggi dall'ufficio scolastico regionale che conferma anche la crescita di vaccinazioni anti covid fra i giovanissimi nelle marche quasi l'80 per cento degli studenti fra i 12 e 19 anni ha ricevuto la prima dose la percentuale più alta è nella provincia di ancona dove si arriva all 86 per cento di vaccinati e dai vaccini anti covid passiamo a quelli anti influenzali una profilassi medica che da novembre a pesaro si sta tenendo il martedì nei locali dell'oratorio della parrocchia santa maria di loreto tanti cittadini che si sottopongono al vaccino in locali ampi e anti assembramento ci troviamo alla parrocchia santa maria di loreto di pesaro nello specifico all'esterno dell'oratorio luogo in cui al martedì si somministrano i vaccini anti influenzali questo è il secondo martedì in cui si svolge questa procedura tanti i prenotati tanti soprattutto gli over 65 a loro su di loro si concentra al momento la campagna anti influenzale che dunque si presentano qui negli spazi e parrocchiali spazi parrocchiali scelti proprio perché sono luoghi ampi e adatti a evitare assembramenti ogni martedì facciamo 350 400 vaccini questa esperienza è cominciata dall'anno scorso quanto in piena diciamo pandemia covid si era vista appunto la necessità di radunare tutte queste persone che devono fare il vaccino anti influenzale in ambienti più spaziosi che non erano i nostri ambulatori e quindi considerando l'ottimo rapporto che ho con don giuseppe che il parroco di loreto e conoscendo già questa struttura perché ci facevamo degli incontri delle feste così ho pensato appunto di trasferire la vaccinazione anti influenzale qua insieme ai miei colleghi insomma di medicina di gruppo quindi siamo cinque medici che ruotiamo il martedì perché il martedì è il giorno in cui diciamo non ci sono altre iniziative in questo locale fabio fratoni si è appena vaccinato qui all'oratorio di loreto le chiedo come mai ha scelto di sottoporsi al vaccino anti influenzale se è una prassi che ha seguito anche negli anni scorsi sì sì ho seguito anche negli anni scorsi dietro il consiglio del dottor de santi che il mio medico di famiglia io credo molto nella scienza e credo molto nelle istituzioni perché vivo in un paese democratico e se mi dice di vaccinarmi io mi vaccino sono cinque i medici che si alternano in questi spazi dell'oratorio di loreto per somministrare i vaccini anti influenzali un'alternanza perché si vaccina sia al mattino che il pomeriggio in questo che il secondo martedì di vaccinazioni anti influenzali nella parrocchia di loreto la differenza rispetto al primo martedì quello della settimana scorsa è che sono arrivati finalmente anche i vaccini per gli under 65 prossima tappa della campagna di vaccinazione anti influenzale qui a loreto martedì 30 novembre sono arrivati ieri con il nostro grande sollievo perché avevamo tre quattrocento persone prenotate di cui la metà sotto i meno 65 anni e quindi insomma avremmo dovuto spostare tutti gli appuntamenti invece dai sono arrivati un primo grosso quantitativo e un altro grosso quantitativo arriverà la settimana prossima la campagna di vaccinazione anti influenzale è iniziata il 20 di ottobre una campagna anti influenzale che vive di una percezione diversa da quando si vive purtroppo in regime di pandemia il concetto dell'anti influenzale un pochettino era stato era stato accantonato perché adesso si pensa solo giustamente alla vaccinazione anti covid però c'è da dire che mentre l'anno scorso con tutte le misure contenitive dell'infezione da covid quindi il distanziamento mascherine lockdown l'influenza praticamente non è quasi esistita quest'anno invece diciamo le previsioni sono che almeno 7 8 milioni di italiani si ammaleranno di influenza e c'è anche da dire che diciamo queste previsioni sono avvalorate dal fatto che è circa un mesetto che cominciano le forme cosiddette pre influenzali quindi c'è parecchie persone con febbre raffreddori mal di gola che l'anno scorso non c'erano o comunque l'anno scorso tutti quelli che avevano queste forme qui erano tutte covid quest'anno invece io faccio fare i tamponi a molte persone che hanno queste forme e sono negative quindi queste sono forme diciamo pre influenzali in previsione quindi questo significa che l'influenza arriverà Questa sera in prima serata cioè alle 21 eventi su Rossini tv vi proporremo uno speciale dedicato al bando reshoring si tratta di un progetto della regione marche volto a fornire incentivi al recupero di capannoni e fabbricati industriali dismessi vediamo qualche anticipazione di questa opportunità nelle prossime interviste il reshoring è un bando è il primo bando che esce per l'utilizzo dei capannoni abbandonati in modo particolare pensavamo ai centri artigianali abbandonati nell'area interna e tante zone industriali che avrebbero bisogno di rivitalizzazione e con questo bando la piccola medimpresa ha uno stimolo in più per riqualificare opifici per riaprire e per assumere nuove persone contiamo di poter fare subito l'intervento su 50 imprese quindi diciamo 59 capannoni aperti e successivamente a rifinanziarlo se ci fosse l'esigenza però certamente questo è un bando per chi vuole riaprire un'attività produttiva di stimolo perché in questo momento servono stimoli alla riapertura alla ripartenza chi vuole investire e sostenerlo quindi questo era l'obiettivo di questo bando e quello che vorremmo fare per cui diamo un incentivo molto importante pari al 50 per cento delle spese che si andranno a effettuare per il recupero di questi fabbricati e teniamo molto anche alle assunzioni di nuove unità di personale proprio perché non vogliamo spopolare le zone interne. Il bando è stato fatto in modalità semplificata nel senso che l'imprenditore dovrà autocertificare i criteri che noi abbiamo indicato dal bando e a seguito della loro certificazione estileremo una graduatoria molto veloce al fine di assegnare i fondi a disposizione già nel corso di questo anno. È stato presentato oggi il calendario dell'Arma dei Carabinieri 2022. A Pesaro il nuovo comandante provinciale Gianluigi Cirtoli ha illustrato un'opera realizzata con i testi di Carlo Lucarelli e le tavole di Sandro Chia che celebra i 200 anni del primo reggimento generale dell'arma. Il prossimo 23 novembre in occasione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori della testa e del collo l'unità operativa di Otorino-Laringoiatria di Marche Nord effettuerà delle visite gratuite all'ospedale Santa Croce di Fano all'interno del padiglione B4. Per prenotare la visita senza impegnativa sarà necessario chiamare il numero 0721 88 24 34 venerdì 19 e sabato 20 novembre dalle 12.30 alle 13.30. Dopo un anno di stop forzato per la pandemia torna il campionato invernale di vela organizzato dalla Lega Navale Pesarese per la 26esima edizione. Già stabilito il calendario delle regate che si svolgeranno domenica 21 e domenica 28 novembre con eventuale recupero il 5 dicembre se dovessero verificarsi condizioni meteo avverse. La partenza comunque è sempre fissata dalle 11 del mattino. E Pesaro ospiterà il campionato mondiale European Team Championship di War Games nel 2022. Lo ha comunicato oggi il vice sindaco Daniele Vimini ringraziando Andrea Albertini, Andrea Manfroni e Marco Tarducci che per due anni hanno lavorato a una candidatura che quest'estate porterà in città centinaia di giocatori appassionati di miniature e giochi da tavolo. La competizione si svolgerà a Pesaro dopo che in questo 2021 si è tenuta in Lussemburgo. Si chiama articolo 26 il progetto di educazione ai diritti umani e all'ambiente che per il quarto anno Fondazione Vanda di Ferdinando e Fondazione Casa di Risparmio di Pesaro portano nelle scuole pesaresi. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Dal 2018 la Fondazione Pesarese Vanda di Ferdinando ha coinvolto più di 200 giovani e giovanissimi della nostra provincia all'interno di articolo 26. Un progetto giunto in quest'autunno alla sua quarta edizione finalizzata a portare all'interno e all'esterno delle aule scolastiche un'educazione civica e morale rivolta ai più giovani pesaresi e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, ad una consapevolezza verso la determinazione del futuro che gli attende. La novità di quest'anno è la rafforzata attenzione verso l'ambiente e le dinamiche climatiche per un articolo 26 che recepisce i dettami dell'Agenda ONU 2030 attraverso un'azione di partenariato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Da novembre a giugno tante iniziative guidate da uno staff di professionisti rivolte ai bambini per insegnare il rispetto del pianeta, compreso l'organizzazione del Festivalino dell'Ambiente, così come tanta attenzione agli studenti delle scuole superiori con un ciclo di appuntamenti legate a tematiche di diritto all'istruzione e tutela dell'ambiente sempre in un'ottica di sguardo allargato a livello internazionale. Così come internazionali sono anche i progetti filantropici che Fondazione Vanda di Ferdinando e Cassa di Risparmio di Pesaro continuano a cavalcare. Questa nuova edizione del progetto sta rientrando in maniera tutto tondo per quello che riguarda l'Agenda 2030, che è un'agenda che è importante non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Significa ad un certo punto immeggersi nella necessità di un cambiamento nei rapporti all'interno della collettività mondiale e quindi anche per quello che riguarda Pesaro, perché facciamo parte del mondo, perché l'ambiente è una questione estremamente importante, se ne stiamo rendendo conto tutti e qui è stato anche merito della Fondazione Vanda di Ferdinando da averlo percepito ancora prima che venisse fuori questi tipi di problemi, c'è quattro anni che lo facciamo e diamo l'opportunità, mettiamo a disposizione il sapere su questi problemi ai ragazzi, perché saranno loro quelli che poi dovranno avere la possibilità di combattere con le armi necessarie. Diamo gli strumenti per poter combattere, cerchiamo di dargli, non so se sono sufficienti, ma il tentativo è questo. E questa era davvero l'ultima notizia del nostro telegiornale, andiamo a vedere quindi la prima serata su Rossini TV. Partiamo alle 21.20 con un interessante approfondimento della Regione Marche che vi spiegherà come ottenere il contributo per l'investimento che si chiama reshoring, cioè sono contributi a fondo perduto per il recupero dei laboratori artigianali e industriali dismessi. Quindi seguite se vi può interessare questo contributo, insomma offerto dalla Regione Marche. Subito dopo, alle 21.35 vediamo uno speciale dedicato al Bar Le Caffè, che si è rinnovato tante specialità e curiosità da seguire proprio questa sera. domani invece vi ricordiamo che parte un nuovo programma su Rossini TV, così per tanti mercoledì alle ore 21.20 Green Tour. La prima puntata è dedicata alla bellissima Monbaroccio. Green Tour è un programma che celebra l'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, toccando la cultura, l'arte e l'enogastronomia. E allora grazie per averci seguito anche questa sera, vi ricordo che tutti i servizi del nostro telegiornale li potrete vedere a partire da domani anche sulla nostra pagina Facebook, quindi vi invitiamo sempre di mettere like oppure seguire anche la nostra pagina Instagram, oppure potete anche andare sul nostro sito rossinitv.it e rivedere l'intera edizione di questo giornale. Invece per quanto riguarda domani mattina, la nostra rassegna stampa vi attende così come sempre dal lunedì al sabato alle 7.20 in diretta. Ci vediamo domani.